Due mesi di eventi tra arte, cinema e teatro al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. Ieri la presentazione del programma di MAV 2010 presso l'EPT di Napoli. Ricco e variegato il cartellone degli appuntamenti. Dal 21 gennaio il museo ospiterà per due mesi mostre, anteprime, teatrali e cinematografiche, installazioni artistiche e spettacoli. Ad aprire la manifestazione il 21 gennaio dalle ore 18 alle 24 sarà Writing on MAV, il grande evento creativo tra tecnologia e arte, che darà la possibilità al pubblico di scrivere sulla facciata del museo con il raggio laser tag. Venerdì 22 in programma omaggio a Pierpaolo Pasolini, con la presentazione dei documentari di Roberta Torre e una mostra sulla storia di Pasolini. In calendario omaggi a grandi maestri del cinema, anteprime teatrali e una sezione dedicata alla giornata della memoria. MAV 2010 conferma la vocazione della Fondazione Cives a promuovere il museo, che dall'apertura nel luglio del 2008 ha registrato 100.000 presenze. Come prestigioso contenitore di performance e incontri legati alla tecnologia, ma anche al cinema, alla cultura e alla creatività. Non mancheranno gli eventi culturali, con le mostre di Cristian Leperino, Anna Maria Pugliese e Luciano Ferrara. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco della città degli scavi, Nino Daniele, e Ciro Cacciola, direttore generale della Fondazione Cives MAV. Molteplici iniziative in occasione della giornata della memoria. Due anteprime teatrali nazionali e uno spettacolo concerto, in programma il 25, 26 e 27 gennaio al MAV. Lunedì alle 20.30 è prevista l'anteprima nazionale di Nati colpevoli, i figli dei nazisti si raccontano, per la regia di Massimo Luconi. Martedì 26, lo sguardo obliquo, per la regia di Lella Serao. Il 27 gennaio sarà la volta dello spettacolo concerto Different Trains, scritto da Steve Rich per la regia di Filippo Del Corno.